Oggi prepariamo insieme i pizzicotti di pasta di mandorle in due versioni, una classica e uno al cacao. Le avete mai fatti al cacao? Vediamo come fare. Prendiamo delle mandorle già pelate oppure possiamo utilizzare direttamente la farina di mandorle e frulliamole a scatti col frullatore. Trasferiamo la farina di mandorle ottenuta in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero. E mescoliamo. Quindi la scorza di limone grattugiata, abbondante. Qualche goccia di aroma a mandorla, se avete le mandorle amare è meglio. E gli albumi leggermente sbattuti. Quindi aggiungiamo anche gli albumi, pochi alla volta, e mescoliamo. Dovremmo ottenere un composto compatto. Quindi impastiamo bene adesso con le mani e dividiamo il composto a metà. Lo stiamo dividendo perché ne faremo una parte al cacao. Aggiungiamo il cacao amaro. Setacciato. E andiamo ad impastare bene. Quindi copriamo con pellicola trasparente. Lasciamo riposare in frigorifero per almeno mezz'ora, un'ora. Meglio se tutta la notte. Riprendiamo il nostro impasto e ricaviamo delle palline. E andiamo a tuffarle nello zucchero a velo. Ricopriamo con abbondantissimo zucchero a velo e trasferiamo su una teglia ricoperta con carta forno. Così. Quindi abbondante zucchero a velo. Facciamo lo stesso con l'impasto al cacao. Quindi realizziamo i nostri biscottini cercando di farli tutti della stessa dimensione e dello stesso peso. Rotoliamo nello zucchero a velo e disponiamo su teglia ricoperta di carta forno. Non so quante volte io abbia detto zucchero a velo. Comunque passateli nello zucchero a velo. Ecco. Così. Quindi adesso li lasciamo riposare per 5-6 ore. Meglio se tutta la notte. Trascorso il tempo di riposo andiamo a dare la classica forma dei pizzicotti. E quindi andiamo a creare una sorta di pizzico con 3 dita. Esattamente così come si vede nel video. Quindi inforniamo a 160 gradi per 10-15 minuti. Naturalmente i tempi di cottura dipenderanno dal vostro forno. Quindi controllate sempre a vista. Quindi in forno. Ed ecco i nostri pizzicotti cotti. Pronti per essere disposti su un piatto di portata e serviti. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao. Ah, dimenticavo. Questa ricetta è senza glutine. Quindi la possono mangiare anche i celiaci. Guardate che belli. Perfetti. Perfetti. Grazie. Ciao.